Nel cuore d'Italia c'è un cuore grande, è quello della palla a volo. Il successo strepitoso della festa di Pianeta Volley, tenutasi lunedì 12 dicembre, farà battere un cuore. La soddisfazione è enorme per aver centrato l'obiettivo prefissato, riuscendo a raccogliere i fondi necessari per consentire l'effettuazione di un intervento chirurgico a un bambino cardiopatico e per dargli così una possibilità di vivere che altrimenti non avrebbe. La testata giornalistica sportiva ha voluto perciò sostenere quest'anno il progetto Salva Vita per riuscire ad operare un bambino cardiopatico. All'invito ha risposto unita la grande famiglia del Volley, registrando il nuovo record di presenza. L'incasso dell'evento sarà devoluto alla fondazione Mission Bambini. L'ottava edizione della festa della pallavolo Umbra ha avuto il suo apice dopo la cena, con la tradizionale supertombola della solidarietà animata dal direttore Alberto Aglietti, che, indossati i panni di Babbo Natale, ha estratto i numeri fortunati e consegnato gli oltre 600 premi ai possessori delle schede fortunate.